è tornato nella tua città innanzitutto come stai come sta andando sto andando bene questo qua è la mia calda da quanto tempo mancavi? due anni che non sono venuto qua ogni tanto vengo però e scappo subito faccio due giorni e poi scappo ho visto che è arrivato un titolo giovanile femminile ho visto tanti progetti tanta palla a canestro a marchio Lumaga sono soddisfazioni è una bella cosa è una piacere di avere questa vita con loro perché mi hanno aiutato tante volte e ho visto questa cosa è una bella idea ho visto la Luma Camp ho visto che aiutano i geni ho detto perché non lo faccio in Africa e questo è stesso che qua in Africa qua mi aiutano tante volte a mandarle qua in Africa insieme poi le spedisco fatti le domani che ho insieme c'è una squadra che fanno insieme a lato con la Luma Camp che chiamo Mare Cisse abbiamo insieme a tutti poi ogni anno mi mandano le cose che mi mandano lì quest'anno abbiamo vinto il campionato regionale il campionato comunale prima l'abbiamo vinto però stai, lo te lo porto ma tu stai giocando? sì, io sto giocando a Corina come va? sto andando così così ti manca un po' la pallacanessa di qui? sì, sì qua mi manca molto a Radio Club mi manca quel piso chi ti manca di più? Luca? Lucio? Katia? chi ti manca? tutti tutti i affarellati mi mancano mi sono in passaggio mi mancano